Superati alcuni intoppi per la costruzione del nuovo supermercato Conad in zona La Gabbiola a Stresa. Un esposto era stato presentato da un cittadino ed era arrivato in comune. Il documento richiedeva indagini ambientali sull'area ex deposito tranviario della linea Stresa-Mottarone. Le analisi sono state effettuate nelle scorse settimane dall'ARPA e hanno decretato che non si dovrà compiere nessuna bonifica. E così sono ripresi i lavori e il nuovo supermercato verrà inaugurato nel luglio 2019. La struttura avrà una superficie di 900 metri quadrati e sarà munita di 64 posti auto, suddivisi tra il semi-interrato e l'ultimo piano. I nuovi parcheggi saranno messi a disposizione della città, dice il vice sindaco stresiano Carlo Falciola. Siamo contenti di aver trovato una nuova destinazione d'uso per quest'area apposta nel centro di Stresa, che dal 1963 era praticamente inutilizzata. In effetti l'ultima corsa della ferrovia a scartamento ridotto Stresa-Mottarone è avvenuta il 13 maggio 1963 alle 12.55. Da quel momento in poi l'edificio ha perso la propria funzione e lentamente è stato abbandonato. Si è trasformata così in una struttura in un grave stato di degrado. Ora è stata abbattuta e lascerà spazio al supermercato con il mantenimento della sola facciata storica. La nuova attività creerà occupazione nel comune lacustre. Gli stresiani avranno priorità di assunzione. I curriculum dovranno essere presentati alla società Conad.